ok no ok 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 ti faccio così ok grazie per essere ok mi vedi no dimmi a ok questo almeno grazie per essere ok ok si non farmi il video asia pronti asia asia ok se io faccio così io faccio così eh non mi ricordo cosa devo dire non ricordo azione ok ho ripetuto ho ripetuto Michela non cantare no comunque non mi piace come sto facendo vai vai io ok no 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 aspetta no non lo posso fare ok ok raga forse dopo quello che ti farò per vedere ma non lo so ho detto almeno non so perché ok vado ok 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 forse dopo quello che ti stai per vedere no stai per vedere no stai per vedere no stai per vedere ok no ci sei sempre l'altra battuta prima vai vai ok scrutto l'immagine guarda asia sarebbe miriam asia ok asia ok raga 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 mi cina ok figurati se io perdo tempo a photoshopare le perché mettiamo no ok ti ascia figurati se ok che devo fare va bene ok aspetta ok spaccola la porta in faccia no violence